Buona Pasqua. Oggi, 16 aprile, il Vangelo ci racconta la resurrezione di Gesù e la scoperta della tomba vuota. Dal Vangelo secondo Giovanni Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono dal sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Questo racconto del capitolo 20 di Giovanni dà inizio alla presentazione del giorno di Pasqua. Mette in scena la visita al sepolcro da parte di Maria Maddalena, poi la visita da parte di Pietro e infine quella dell'altro discepolo, il discepolo amato. L'inizio enuncia le circostanze di tempo e di luogo. È il primo giorno della settimana, quello che per i cristiani diventerà la domenica. La notizia rispetta quanto è accaduto, ma Giovanni se ne serve, sottolineandolo simbolicamente, per riferire che quando noi la domenica ci riuniamo a celebrare la preghiera, ogni domenica celebriamo la Pasqua del Signore. E ogni domenica ci incontriamo con il suo vero corpo presente nell'Eucarestia, ma ci incontriamo anche con il suo vero corpo presente nei fratelli radunati con noi per la preghiera. Perché dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, aveva promesso Gesù. Il racconto comincia con una notazione di tempo. Quando era ancora buio, la Maddalena va al sepolcro. E il buio è esterno, ma è anche interiore. La Maddalena ancora non è certo predisposta a credere alla resurrezione di Gesù. C'è buio nella sua anima. Per questo quando Gesù non c'è e vede che non c'è e vede che la pietra è stata ribaltata, teme che l'abbiano portato via. Lo stesso buio sta nel cuore dei discepoli che giungono in fretta e con trepidazione, ma anche con tanti dubbi. La loro corsa verso il sepolcro è una bella immagine del cammino della fede, nel quale riceviamo inviti ed indizi, brani di testimonianza, ma la scelta tra credere e non credere si gioca tutta nella libertà del nostro cuore. Il discepolo amato arriva per primo al sepolcro. Poi arriva anche Pietro, ma sarà lui ad entrare per primo. Questo gioco di precedenze è significativo e Giovanni lo sottolinea per darne il valore simbolico. Il discepolo amato è sempre primo a giungere in tanti passaggi chiave del Vangelo. È lui che introduce Pietro presso i sommi sacerdoti. È lui sotto la croce di Gesù. È lui che per primo riconoscerà Gesù sulla riva del lago. Questo primato del discepolo amato ci parla del primato dell'amore. È l'amore che fa correre con maggiore velocità verso Gesù. È l'amore che apre per primi gli occhi della fede. Chi non ama Gesù non può credere. Chi ama per primo vive e comprende la fede. Ma dopo che lui è giunto al sepolcro, ecco che lascia spazio a Pietro. Ed è Pietro che qui per primo entra ed è Pietro che si tufferà e per primo raggiungerà il Signore sulle rive del lago. In questa precedenza di Pietro c'è l'altro valore simbolico perché Pietro è la pietra, la solidità, il fondamento della fede della Chiesa. E la fede si radica non solo sull'amore di Giovanni ma anche sulla forza della testimonianza di Pietro. Va poi notato tutto quello che accade all'interno del sepolcro. Già i padri avevano notato che il modo con cui Giovanni descrive il sepolcro fa pensare. Certo, se avessero rubato Gesù, quale ladro che trova un cadavere da rubare bello impacchettato perde tempo a spacchettarlo, a sciogliere le bende, magari sporcandosi anche tanto di sangue? Non avrebbe senso. Quelle bende deposte sono il segno non di un morto rubato ma di una vita rubata alla morte. È Gesù che non solo torna in questa vita ma ruba alla morte la sua ed ogni vita. Il Signore Gesù risorgendo ci apre alla speranza della vita eterna.